Devastato il palaius di Maccagnolo ad Arezzo da una banda di vandali che si è introdotta all'interno del palazzetto spaccando una vetrata per poi mettere a ferro e fuoco l'intero locale. Giovedì il presidente dell'aius pallavolo è venuto a Maccagnolo perché aveva da vedere alcune cose e ha trovato questa situazione tragica. Campo imbratato, estintori svuotati, attrezzature distrutte, uffici messi a soccuado ed addirittura frasi oscene e bestemmie incise sul muro con un penarello e sulle divise delle ragazze della società. Questa è la situazione che si sono trovati di fronte agli occhi una volta entrati nel palazzetto. Proprio il gusto della devastazione, non so nemmeno quel che pensare, penso solo che possano essere e meriti in b**** che invece di andare a fare una passeggiata e godersi la vita pensano solo a distruggere. Le impronte lasciate sul terreno completamente ricoperto dalla polvere degli estintori inoltre indicano che almeno quattro persone hanno partecipato alla devastazione. La dirigenza della società che si è rivolta alla polizia per denunciare l'episodio lancia infine un appello rivolto a chiunque possa aiutarli a rintracciare i responsabili del misfatto. Speriamo che con l'aiuto che la polizia e con l'aiuto anche di qualcuno che può aver visto, aver sentito, aver notato qualche cosa si riesca a trovare i responsabili di questa devastazione.